Pronto? Pronto? Ciao chi sei? Sono Emiliano da Salerno Oh, Emiliano da Salerno Ciao Emiliano Salutami Salerno Emiliano Prego, fare la tua domanda Sì Perché insomma la Juve ha preso l'attaccante all'estero e non ha pensato a Gennaro Troianillo che ha fatto prendere la salernitana? Ma questa è una domanda a porta fortuna perché tecnicamente la domanda non è una risposta per tanti motivi Se prendi Troianillo Perché? Chi è? Sei tu? Sì, sì Alcuni rispondi, perché? Ma chi è al telefono? Emiliano da Salerno Alfredo, sono Gennaro Troianillo È una sorpresa per te Alfredo Infatti alla Juve adesso riapriamo il mercato lo chiamiamo Deroga Troianiello Entro 24 ore prendi Troianiello se vuoi vincere lo scudetto Dai facciamo questo lancio Come ti trovi? Ma sei tu davvero? Sì, sono Gennaro Ciao Alfredo Ciao Gennaro Come ti trovi? È una pedullata questa È una pedullata Ah sì, non sto bene Sto bene, è una bella città, è una bella piazza I rifusi insomma ti fanno Ma nel 4-3-3 giochi domenica subito? Io penso che quest'anno la coppia è io con Massimo Coda Quindi giochi già domenica? Eh sì, penso di sì Ma non voglio dire niente Perché con quelle decisioni li fa il Mitzel Però penso di giocare Alfredo Lo vieni Alfredo Se sei Gennaro ti faccio il bocca al lupo Certo, sono Gennaro Alfredo Ma io ti seguo sempre È perplesso, è Gennaro È perplesso No, ma so perplesso perché una volta mi è arrivata una telefonata Prima di una trasmissione Sì Ed era uno scherzo Quindi io so perplesso per questo motivo Ma siccome Io la mano sul fuoco non ce la metto Nemmeno io Ma adesso, non scherziamo dopo Sono Gennaro Troianillo No, ma tu l'hai detto Io ho qualche perplessità E quindi vediamo se domenica giochi titolare oppure no Alfredo, ci sei cascato Sono Emiliano da Bellissi, Alfredo Eh, l'avevo capito Ma se tu vuoi che ti capisci Non l'avevi capito Alfredo, comunque voglio parlare Forse dell'Avellino Ci vediamo, pecore Ci vediamo domenica, pecore Vabbè, Alfredo Proseguiamo allora No, proseguiamo Questo è un modo Questo è il bello della diretta Esatto, sì No, è il bello della diretta Perché comunque lui chiama C'è il suo numero È memorizzato Se questo è uno spot per il derby Io sono d'accordo col presidente Taccone Che ho ascoltato oggi con grande simpatia Non ce l'ho cascato sotto la linea E ti ho spiegato perché Perché gli sfottocci stanno Però devono essere sfottocci e basta Però così mi sembra un modo sbagliato Però può darsi anche che mi sbagli io Grazie a tutti Grazie a tutti